Cosa chiedete per la posta a Ischia Ponte? Io chiedo che se la porta a Ischia Ponte si deve aprire, si apriva per forza perché è stata la prima posta principale. Non è giusto che la porta principale resta chiusa, quando molti di noi che siamo molto lontani dal porto dobbiamo andare a porto a Ischia Ponte per prendere la pensione. E come sono me, ci sono ancora milioni, centinaia di migliaia di cittadini come me. E allora andare a porto e mi faranno raccomandare, se devi portare le macchine, tutto quanto a Porto dici. Per me non è giusto. Nelle settimane scorse, attraverso eloquenti servizi giornalistici, denunciammo la vergogna della chiusura degli uffici postali di Ischia Ponte e di Piedimonte, ufficialmente chiusi a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Paradossalmente, però, tenendo chiusi i suddetti uffici, oltre ad aver penalizzato pesantemente gli utenti schiapontesi e quelli della frazione baranese, a partire dagli anziani e dai pensionati che dovevano percorrere chilometri per portarsi verso altri uffici e ritirare la pensione, per mesi si sono creati i presupposti per un maggiore afflusso di cittadini sia presso l'ufficio centrale di Ischia Porto, sito in via Alfredo De Luca, sia presso la posta di Barano presente in piazza San Rocco, con l'ovvia ed inevitabile conseguenza che, soprattutto nelle ore di punta, si venissero a creare degli assembramenti. Assurdo. Ebbene, tanto tuo no che piove, potremmo dire, visto che le sedi di poste italiane di Ischia Ponte e Piedimonte finalmente riaprono i battenti. Ieri mattina, 24 giugno, ha riaperto l'ufficio postale di Piedimonte, mentre i cittadini di Ischia Ponte dovranno pazientare ancora qualche giorno, considerato che l'apertura del loro ufficio è prevista per lunedì prossimo, 29 giugno.